Ci troviamo in compagnia dell'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato. Preoccupazione per la questione pasticcio quote latte, un pasticcio tutto italico? Sì, tutto italico in tutti i sensi, innanzitutto perché c'è una grande parte degli allevatori che hanno pagato le quote e quindi sono in regola. Un'altra parte che ha regolarizzato secondo una possibilità di dilazionamento della multa, altri che non hanno pagato. La comunità europea oggi indica con forza di dover riscuotere queste multe ma come diceva lei giustamente tutto italico c'è la questione invece dell'inchiesta che oggi è aperta su questa partita che non si è ancora chiusa e che quindi crea un trade off come si dice tra chi deve ricevere le multe e questa inchiesta invece che sta disegnando uno scenario completamente diverso. Cosa intende fare la regione? Qual è la posizione? La nostra posizione è molto chiara, bisogna rispettare ovviamente chi ha pagato le proprie quote e quindi chi è in regola, rispettare chi ha dilazionato il pagamento e poi c'è una realtà di chi deve ovviamente ottemperare alle multe, al pagamento delle multe però di fronte a uno Stato, un governo, tutti i governi che in qualche modo devono affrontare la questione di questa inchiesta. Io credo che prima di tutto si debba sapere esattamente come sono andate le cose quindi chiarimento definitivo attraverso la chiusura di questa inchiesta e poi eventualmente fare i passi successivi. Quindi noi chiediamo al governo che si faccia carico di poter affrontare prima di lasciare attraverso le multe chiudere molte aziende di allevatori, poter verificare la veridicità di ciò che gli inquirenti stanno cercando all'interno di questa questione che è mai annosa ma sta ovviamente ancora molto aperta. Quindi aspettiamo che ci sia un risponso da parte dei giudici prima di poter intervenire e quindi anche fare del danno alle aziende.